Giulia Salemi, concorrente del grande fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, oggi pomeriggio in giardino si è aperta come poche volte aveva fatto, a Filippo Nardi nuovo concorrente, circa la sua infanzia e soprattutto la sua adolescenza che ha visto la separazione dei suoi genitori quando aveva 16 anni e l'arrivo in famiglia di una nuova bambina in affidamento. La nota influencer, sempre Power, e raggiante che poco racconta del suo passato, oggi è stata particolarmente malinconica ripensando alla bambina che è entrata a far parte della sua famiglia. A lei vanno i suoi sensi di colpa per non averla capita e soprattutto per averla colpevolizzata della separazione dei suoi. La Salemi ricordando quel periodo, si è rimproverata di non aver compreso anche il suo di dolore per quei periodi tesi e bui e rimpiange di aver addossato la propria rabbia verso la ragazza dal carattere introverso e timido, vissuta in casa per dieci anni con loro e che considera una sorella. Da pochi anni, dice, ha cercato di ricostruire un rapporto e di aver fatto tentativi per ritrovarla, ma inutilmente e, mentre parla, molti altri rimproveri verso se stessa emergono, mentre Filippo Nardi cerca a fatica di sgravare questi pesi che si porta.